Presidente, una domanda. È meglio il pesce italiano o il pesce estero? Sta sempre alla tipologia di mare o di zona di pesca, perché dove ci sono i fondi sabbiosi, può essere l'Adriatico, può essere la Francia, può essere la Spagna, può essere la Norvegia, il pesce è sicuramente migliore. Conta moltissimo quanto ha di alimento il pesce nel mare. E questo è opera dei fiumi, della carica batterica e alimentare che può avere il mare in quel punto lì. Perché un pesce più grasso è più buono generalmente. Infatti i giapponesi guardano al tonno quanto grasso ha. Il valore aggiunto del tonno, oltre all'acidità e il colore, è il grasso. Più grasso ha, più nutriente è. Questo è il valore che danno altre nazioni che storicamente hanno magari una storia millenaria nella raccolta del pesce. Il pesce è comunque uno degli alimenti più sani che ci sono sul mercato oggi. Quello è vero, ho detto dai nostri medici, ce lo ricordano tutti i giorni. E mangiate pesce che è importante. Sì, ci sono pesci che costano poco e sono di gran lunga, tipo le sardine, tipo le alici, tipo il pesce azzurro. In generale nutrienti di gran lunga, più nutrienti di qualsiasi altra pietanza. E sano. Quindi pesce povero, più il pesce è povero e più il pesce fa bene. Detta come vuol detta. Dico bene Presidente? Sì, sì, senz'altro. Grazie a tutti.